Bella ragazzi, io sono Martex e bentornati su un nuovissimo video mattutino e quest'oggi sono troppo, ma troppo felice Perché non mi trovo nel mio account principale, bensì ci siamo intrufolati in quello del polipo E perché mai, perché tutto ciò, come mai ci troviamo proprio qui? Se ricordate bene, una settimana fa ho lanciato dei sondaggi su Instagram alquanto strani Tra l'altro raga, se ancora non mi seguite Martex TV, semplicissimo, andate a lasciare un bel follow I sondaggi riguardavano una scelta per ogni agente di questa stagione e quindi se scegliere ombre oppure spettri Ho tutto qui all'interno del mio telefono ragazzi, ho tutti gli screen, tra poco andremo a guardare i sondaggi, quindi i risultati e poi completeremo le sue missioni Sì, le completeremo noi Ed a proposito di telefono raga, guardate qua, sappiate che sono online adesso le mie cover ufficiali Finalmente le abbiamo lanciate raga, questa la sto usando praticamente da un anno ed i segni di usura sono davvero pochissimi, quindi parecchio buona Ci abbiamo messo un po' ragazzi, però finalmente posso annunciarvi questa bellissima cosa, quindi link in descrizione per chi volesse Procediamo nella sala degli agenti e guardate qui che cosa bella raga Oh, tutto questo giallo mi piace un casino, abbiamo Mida che purtroppo ragazzi ha selezionato la sfida ma non fa nulla Adesso la cambieremo in base ad i sondaggi perché partiremo proprio da lui Allora, lui ha selezionato ombre, potremmo scegliere spettri Però io qua non posso mettere mano ragazzi, siete voi a decidere, fatemi vedere lo screen Allora, scelta per Mida, abbiamo ben 5.472 che votano spettri e 7.113 di voi che votano per le ombre raga Ma siete pazzi? 7.113 votanti per le ombre, ma perché raga? Ma neppure il gusto di cambiarlo Dai! Consegna armi leggendarie alle casse delle ombre Armi leggendarie Cominciamo male raga, qui è lunga Abbiamo praticamente hackerato l'account del polipo, ma perché devo fargli le missioni? Perché? Vabbè, andiamo, butiamoci in game E quindi dobbiamo consegnare queste armi leggendarie Voi saprete benissimo che nel momento in cui io vado a cercare una determinata rarità Questa ragazzi non si presenterà mai E so che tutto ciò accade anche a voi Morale della favola, mi servono armi leggendarie? Non le troverò mai Però potrei buttarmi in un punto di interesse dei boss Magari alla grotta, aprire il cavo tramite l'uccisione di Brutus E forse ragazzi, aprendo qualche cassa, potrei trovare un'arma leggendaria Io sinceramente spero che non ci sia nessuno con me alla grotta, davvero raga Altrimenti qui comincia davvero male Anche perché sono in solo versus squad Non riempire ovviamente Vediamo come va, procediamo ragazzi Mi pare che il tutto sia clean raga Mi sa che ci sono solo io Che cosa bella Andiamo, 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 veloce, veloce, veloce Chissà se riesco Non ci posso credere Ok raga, facciamo finta che non sia accaduto proprio nulla Io mantengo la clip nel video Però voi dovete eliminarla dalla vostra testa Non so perché faccio determinate cose dopo tantissime ore in questo game Sembra che abbia appena installato Fortnite Forse è così Ho praticamente buttato un game Però qui la scia è nuovamente a nostro favore Se vogliamo andare alla grotta Quindi via di grotta e speriamo di trovare qualche barrettozzo tramite quelle cestine La missione come ho già detto richiede delle armi leggendarie Ci vuol dire che quelle che raccoglieremo dai boss che sono miti che non potranno essere consegnate Altra cosa da tenere in considerazione è che i boss hanno un aimbot pazzesco Quindi ci scioglieranno Attenzione a questa cosa perché davvero raga Non sto scherzando Sembra che l'aimbot sia stato aumentato dopo qualche patch Non so il perché ma è così Dovrei esserci solo io quindi cerchiamo di non buttare al vento anche questo game Allora Lutto un attimo qui Apro questa chest Va benissimo Sono venuto a trovare il mio vecchio caro amico Brutus Dovremmo essere ancora amici Non dovrebbe farmi del male Ragazzi infatti mi sono travestito Lui è qui È qui che ci aspetta Allora Che cosa facciamo? Facciamo l'entraire qui dentro Ovviamente cerchiamo di non avvicinarci troppo Chiudiamo qui Ok Carica 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 Oddio Addio raga È stato bello Partita finita A presto Fammi scildare subito Sono troppo stupido raga Ma perché faccio queste cose nei video? Perché? Perché non gioco normalmente? Interessante questa position Ok Caduto Arma mitica che prendiamo assolutamente Card E andiamo ad aprire il cavo Andiamo raga Mi sono travestito un'altra volta Non si sa mai ragazzi Perché abbiamo superato Brutus Ma queste guardie Questi scagnozzi No Quindi Apriti sesamo Spero che ci sia qualche arma leggendare ragazzi Almeno una Una Basta e avanza No Niente grazie mille Niente grazie Operazione fallita raga Operazione stra fallita Ma perché sono troppo sfigato io nella vita? Perché? A few moments later Oh Yes Una Ragazzi ho un'idea Vado a trasformare quest'arma Farmo un pochettino e la trasformo È l'unica E abbiamo due armi leggendari da raccogliere E poi consegnare alle ombre Quanto è che ci vuole? 200 200 200 Per renderla leggendaria Va benissimo Non è eccessivo Ce la possiamo fare Raga Lo so Non ci crederete mai Ho i brividi Ho failato anche quella bellissima partita Fortunatamente Nel terzo game Mi sono buttato Allo shark No Che cosa? Allo yacht E andiamo a consegnare le armi Perché non ne posso più Una Ma come? Ah ok 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 GG Consegnarmi leggendari completate Novità stile Ragazzi 1 su 5 Stavo diventando pazzo Più cercati di completare una missione E meno ci riuscirete Ma che cos'è? Allora Primo stile Sbloccato Ce l'abbiamo Mida Stile ombre Ragazzi è fantastico Troppo bello Molto bello Io l'ho scelto spettri sul mio account Però devo dire che anche questo Non scherza mica Andiamo avanti Riscattiamo il tutto E ci buttiamo sulla seconda missione Clicchiamo sugli agenti Raga Stiamo andando benone Essendo che siamo partiti dal basso Verso l'alto La prossima da completare È la missione di sky Quindi questo bellissimo personaggio Vediamo che cosa ha scelto La community Per il popolo Allora Qui abbiamo tantissimi voti 3.048 Per gli spettri E 9.165 Per le ombre Ma raga Dai Ma dai È anche bella Spettri Perché No Vabbè che anche ombre È molto fatta bene Mi tocca accettare questa missione Trova olli delle ombre Nella foresta frignante E chi se lo dimentica Quindi Vada per le ombre Accettiamo Missione accettata E noi la andiamo subito a completare Ci buttiamo un'altra volta in game Comunque c'è da dire Che nelle vostre votazioni C'è un po' di dislivello Raga Tra ombre e spettri C'è un abisso Ecco perché non credo ad esempio Allo squalo Oppure all'agenzia Che sono diventate spettri Soprattutto lo squalo Vedere sky Spettri Mi puzza parecchio ragazzi Anche perché Sono fermamente convinto Che la maggior parte Della community Ha sempre scelto Le ombre In qualsiasi agente Ragazzi La missione di sky Fortunatamente È un pelino più facile E veloce Ci rechiamo qui Di fronte Alla casetta principale Di foresta frignante Prendiamo il cappellino magico Ma che cos'è Ma che cosa c'hai sotto i piedi E ce ne andiamo Niente di così difficile Sperando che non svolazzi Di qua e di l'altrimenti Mi farà impazzire Quindi ragazzi Incrociamo le dita Dovrebbe essere proprio Qua sotto Eccolo lì Che ricordi Non ci posso credere Anche tu stai facendo La missione Cosa No vabbè raga Ma GG No vabbè dai Sky delle ombre È qui con noi Io ti saluto Amico mio Devo andare via Devo andare via Uccidimi Uccidimi Vai 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 Non posso timmare Bro mi bannano Mi bannano fratello Cosa c'è Che cosa vuoi mostrarmi Ragazzi questo mi fa paura Che cos'è Aha Vuoi berti qualcosa qui sul divano con me Io però dovrei registrare Sediamoci dai Guardiamoci un bel film Dove stai andando Aspettate Aspettate Vediamo se c'è qualche Spray Il polipo Lo faccio No Mi hai fatto ma Mi ha Vado Posso No No Aspetta Aspetta Stai fermo Stai fermo Stai fermo Era bellissimo Era bellissimo Fake Tullo Mi sa che è anche Italiano 182 Vabbè raga Allora Procediamo Alla terza Missione Che è Ignoranza Quanta Quanta è bella questa schermata Seriamente Devo assolutamente Salvarla Andiamo avanti Riscattiamo il tutto E procediamo Con la prossima missione Chi abbiamo raga Chi è il prossimo Miascolo Miascolo Ragazzi Cosa avete scelto Per mi ascolo Fatemi vedere un pochettino Andate subito a seguirmi su instagram Perché questo non sarà il primo Ed ultimo sondaggio Che effettueremo Soprattutto ragazzi Decideremo più E più volte Noi Per il polipo Gli rovineremo l'account Però ci state andando piano Raga Votazioni per mi ascolo E qui dovete perdonarmi Lo so sbagliato Screen prima Per quanto riguarda sky Quelli erano i voti di mi ascolo Anche se si avvicinano tantissimo Tra di loro Raga Sono praticamente Uguali In questa votazione In quella di mi ascolo Abbiamo 3048 Per gli spettri E 9165 Per le ombre Per sky Però ragazzi Guardate Ci siamo avvicinati moltissimo 3493 Spettri E 9120 Ombre Quindi Non possiamo dire nulla Era ombre Ed ombre è rimasta Ed anche in questo caso Avete scelto ombre Quindi noi clicchiamo sulla sfida Vediamo che cosa ci propone Visualizziamo Consegna pesce alle ombre 10 pesci da raccogliere ragazzi Da pescare Molto easy Molto tranquilla Da completare Andiamo subito Però raga Per dirla tutta Dovevate praticamente rovinare L'account al polipo State scegliendo sempre I migliori stili per lui Non va bene Stiamo creando l'effetto opposto Di tutto ciò che volevamo Per questa sfida ragazzi Mi allontano da tutto E tutti E vedo che ci sono tantissimi punti di pesca Quindi il tutto giova A nostro favore Andiamo avanti Procediamo Prendiamo una canna da pesca Qualsiasi Possibilmente anche Una fiocina E vediamo In quanto riusciamo a completare Questa missione Allora apriamo 10 Era proprio quello che volevo Grazie Grazie Abbiamo detto 10 pesci Ovviamente Grazie Mi serviva tantissimo l'arma Vabbè Non ne beccheremo neppure uno Ed invece Già due Ok Tre No è una pistola Credevo che fosse Un pesce succoso Ma com'è questa safe Ma che senso ha questa safe raga Cosa? Che è già così piccola No vabbè Mida Tu stai impazzendo Allora Un altro pesciotto GG Vediamo un altro ancora Con la fiocina Grandissimo Allora 4 flopperini Ci sono altri punti di pesca Ok Eccolo qui 5 Niente Va benissimo Procediamo Ultimo tiro E poi si procede Di canna da pesca Andiamo Un altro flopper Andiamo così GG Stiamo andando benone raga 6 flopper Ne mancano Ok 7 flopper Mi correggo Mancano 3 pesci Dai 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 Due pesci GG raga Stiamo andando una bomba E si pesca così 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 Esperti proprio Andiamo 9 Ultimo 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 flopperino Anche un pesce normale Tutti flopper raga Tutti flopper GG Mi sento orgoglioso Sono orgoglioso Di me stesso Li andiamo a consegnare Istantaneamente A foschi fumaioli Dobbiamo muoverci Assolutamente Perché la safe È stranissima Come abbiamo appena visto Allora Barchetta pronta Noi ce ne andiamo Speriamo che non ci sciotti qualcuno Perché ovviamente Quando faccio queste cose Sapete raga Che cosa accade Ogni singola volta Quindi Teniamoci lontani Della costa Allontaniamoci Però no Sto andando contro La tempesta La decisione È stata vostra Avete scelto ombre Ed ombre sia Consegniamo I pesciotti Andiamo Stile sbloccato GG raga GG Mi sta piacendo questa cosa Però peccato che lo stile Non cambia direttamente In game Nel momento in cui Completiamo il tutto Vabbè Usciamo Terzo stile Arriviamo Terzo stile Eccolo qui Eccolo qui Lui è bellissimo Sembra proprio il nostro Caro amico Che abbiamo beccato Nel game precedente Backpack Niente di che Però è molto meglio Rispetto alla versione normale Andiamo avanti Riscattiamo E ci buttiamo Ci fiondiamo Nella quarta Missioncina Sezione agenti Chi dobbiamo completare Nitroglicerina E Brutus Attenzione Possibilmente questa volta Scegliamo lo screen Corretto Ce l'abbiamo di fronte a noi Clicchiamo su nitroglicerina E qui abbiamo Ben 5065 voti Per la versione Spettri E 7703 Invece Per le ombre C'eravate quasi Raga Avevate quasi vinto Cioè È un parolone Però C'eravate quasi Avevate quasi raggiunto Le ombre Facciamo vedere subito Lo stile Spettri Ed invece Lo stile ombre Ragazzi Tutte e due bellissimi Davvero ben fatti Però la decisione È stata presa E non posso assolutamente Andarvi contro Quindi visualizziamo La sfida L'accettiamo E la completiamo Distruggi le cassette Postali degli spettri Usando gli esplosivi Facilissima Davvero veloce Non ci sarà sicuramente Nessuno E abbiamo subito Un altro stile Vi dico la verità Mi sto divertendo A completare queste sfide Però il polipo Oh Dovrebbe ringraziarci Cioè Stiamo completando Il tutto per lui È uno scansa Fatiche raga Non sa neppure Completarsi Da solo Le sfide Sta per concludersi La season Fortunatamente Per lui È stata prolungata Il tutto Ragazzi A suo favore Grande polipo Grande Foschi fumaioli È il mio posto Praticamente Devo trovare solamente Gli esplosivi E la missione È già completata Ok 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 Cassette delle poste Degli spettri Devo distruggere quelle Vero? Siamo contro gli spettri Distruggiamo le cassette Degli spettri Ok Una su due L'altra invece Dovrebbe trovarsi Qui sulla destra Vediamo se riesco a fare Un bellissimo Kobi Ci siamo Ci siamo Ci siamo 3 2 1 Pem Completata raga E la andiamo a completare così La chiudiamo così Che bello stile Non chiedetemi il perché Ma sto facendo screen A manetta Per ogni singola schermata Ogni singolo premio Sono davvero innamorato Di queste interfacce Abbiamo lei Che si presenta davvero bene Il backpack Normalissimo Il piccone Ragazzi Bella la granata È lì Davvero bella Ben fatto Si sentirà bassissimo E kaboom Versione fumetto Mi piace tanto questo stile Io l'ho preso in versione celeste Però anche questo Non scherza Riscattiamo tutto E andiamo Per l'ultima sfida Non ci posso credere Possibile che abbiamo già completato tutto Allora Agenti Brutus Non ricordo la sfida di questo Fatemi subito controllare Che cosa avete scelto Clicchiamo su di lui E ok 3615 voti Per gli spettri E 9107 voti Per le ombre Io ovviamente Faccio vedere Lo stile delle ombre Che bello Io ho scelto questo Ho scelto questo Ma Anche gli spettri Avrei dovuto uscire Questo qui Mi sa Perché so che in pochissimi Avranno questo stile Ed un giorno Sarà rarissimo Anche qui Avete scelto le ombre Praticamente abbiamo fatto 5 agenti 5 ombre GG a voi Raga Complimentoni Noi visualizziamo La sfida Che non ricordo Rubbe i piani Della sorveglianza Dal pozzo Dallo yacht O dallo squalo E consegnali Alle ombre Davvero facile Accettiamo Ragazzi Quinta missione Ci buttiamo E abbiamo finito Tutto 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 Per oggi Rubbe i piani Della sorveglianza Ricordo benissimo Questa missione Soprattutto dove la completai Tramite lo yacht Infatti mi sto dirigendo Proprio lì Ragazzi Li rubiamo E poi ci spostiamo A Foschi fumaioli Ve l'ho detto Foschi fumaioli E' il mio spot Per completare Tutte queste missioni E' super tranquillo Non c'è quasi mai nessuno Nessuno che ti disturba E completi tutto Velocissimamente Ci siamo Mi butto precisamente Nello spot In cui devo trovare Appunto questi piani Della sorveglianza Sperando di non trovare Il nostro caro Deadpool Qui dentro Ok I piani sono proprio Qui dietro Abbiamo il bot Ovviamente Ovviamente C'è il bot Lì a controllarli Cosa vuoi? Fammi prendere i piani Rubbe i piani Della sicurezza Li prendiamo E abbiamo completato La missione in parte Perché dobbiamo consegnarli Raga Ok Arrivo Foschi fumaioli Mi pare che non ci sia Nessun player Salve Non riesco ad entrarci Non ci Ma perché non ci passo Dai Questa è discriminazione Contro Brutus Vedete Non va bene Non riesco a passare Della porta Raga Io me ne vado Non mi interessa nulla Ciao Vi abbandono Prendiamo la nostra Barchetta E via Ok Perfetto È stato comunque Un piacerone Completare assieme a voi Queste missioncine Raga Davvero Mi sono divertito Fatemi sapere qua sotto Tra i commenti Se volete che ne posti altri Video un po' così Un po' diversi dal solito Dalle news E dai leaks Che postiamo Quotidianamente Noi consegniamo i piani Che abbiamo appena rubato E abbiamo completato E abbiamo completato tutto Finito raga Finitissimo Che bel sound Rubi piene Della sveglianza Vado Avevo dimenticato addirittura Che mi davano Oltre al backpack Un deltaplano Cioè lo stile Del deltaplano Bello Ci piace Ragazzi Carinissimo Allora Qui ombre Davvero fatto benissimo Mi ricorda tantissimo Lo school trooper Un pochettino cambiato Però davvero Avanti 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 Vi è piaciuto Se così fosse Mi raccomando Lasciate un bel like Condividetelo Con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Noi adesso Andiamo a goderci Lo shop giornaliero Che ancora si deve aggiornare Abbiamo cambiato anche account Siamo tornati sul nostro principale Ma soprattutto Sono passate un bel po' di ore Dall'ultima clip E con immenso piacere Che vi presento Lo shop giornaliero Bello 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 Agente del caos Mi sa che è arrivata l'ora Raga Non l'avrò shoppato Per almeno 5 volte Dalla sua uscita Ragazzi Perché è uscito parecchie volte È stato implementato Nella stagione 1 Di questo capitolo Ed è arrivata l'ora È arrivata l'ora Ragazzi Me lo porto a casa Acquistiamo Ci voleva Considerando anche che oggi è 10 E domani sarebbe dovuta Cominciare la nuova stagione Mi droppano così a caso Tanto a caso Non credo Agente del caos E va bene così Procediamo Andiamo avanti E lo riscattiamo Bellissima Sono davvero contento Di questa super skinny fit Mi è sempre piaciuta Raga Versione normale Versione slender Fa impazzire tutti quanti Anni avanti Abbiamo il piccone Faccio il caos Ok Sound iniziale Carino Però Boh Non so La mimetica Invece Ultima item Di questo set Melmanera 500 V-Bucks Per lei Ragazzi Niente male È tornata anche Bandoliere Eccola qui 1500 V-Bucks Di skin Quindi un'altra skin Da 1500 Stesso prezzo Della prima E il suo secondo stile Molto bello Raga Implementato da almeno Due patch Eccola qui Andiamo avanti Elicottero No 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 E no No E poi c'è cartucera 1200 V-Bucks Stesso set Eccola Che belli che sono I nuovi stili Raga Molto ben fatti Abbiamo macete Bello Tony di grigio Digitale È l'ultimo item Di questo set Andiamo avanti Scorriamo I vari modelli 300 V-Bucks Per questa wrap Ragazzi Per essere statica Mi piace Invece l'effetto Così pixeloso Diciamo così E andiamo avanti Sorpasso Valkyria Non l'avevo vista Raga È tornata la Valkyria 2000 V-Bucks E lei E lei Con queste ali Giganti Che bella Che è Tra l'altro Questo simbolo Non l'avevo mai notato Bella raga Bellissima Abbiamo anche lui Ha la gelida Fantastico 1500 V-Bucks Di deltaplano Raga Ma di che cosa Stiamo parlando Sorpasso 1500 invece La versione femminile Di questa skin È davvero OP Andiamo 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 Fa tucchiere No Non lo ascolterò mai Ovviamente Ma che Che botte tira Raga Bellissimo Fatto proprio Bianchi Ballerini Li vale Sì Assolutamente Emote Attraversamento Movimenti Eleganti Invece 800 V-Bucks Per lei Altro momento Raga Consiglio di comprare Queste emote Perché Sono fantastiche 200 V-Bucks Ma sono davvero divertenti Navigatore Bruto L'altro giorno È uscita la skin Femminile Oggi Abbiamo invece Quella Maschile Tutte e due Belle Raga Come sempre Vi ricordo Che se volete Potete supportare Tutti questi video Mattutini Cliccando qui In basso a destra Sulla voce Supporto a un creatore E digitando poi Al centro della schermata Il mio code Martex Tutto Attaccato Maiuscolo Minuscolo Ragazzi È uguale L'importante È cliccare qui Sui c'è E aggiornare Il code Ogni 14 giorni Raga Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Se così fosse Mi raccomando Lasciate un bel like Condividetelo Con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Noi ci becchiamo Tra pochissimo In live Oppure In un prossimo video Un saluto Nada Martex SIA BIRDS